Si, c'è Mina e Lucio Battisti, i due grandi, i più grandi cantanti italiani. Sa cantiamo? Sa cantiamo? Parole, perché sono parole? Parole, parole, parole. Vado via perché qui vado a finire io. Ma tu ce va a finire? In Inghilterra, dalla regina, dal principe Carlo, va a finire che ne toccano adesso a Buckingham Palace. E dopo faccio un gran casino. Arrivederci. Grazie.